E' in calendario per il prossimo 29 novembre l'udienza preliminare riguardo il processo sullo scandalo rifiuti che coinvolge le province di Arezzo, Grosseto, Siena e una parte di Livorno. Parliamo dell'inchiesta che ha rivelato, secondo i magistrati di Firenze, un maxi appalto truccato da 3,5 miliardi di euro in vent'anni. Le indagini portarono al commisteriamento di Sei Toscana, il gestore unico che appunto vinse la gara. Le accuse variano da induzione indebita a turbativa d'asta fino alla corruzione in cui la pubblica accusa evidenzia che la gara d'appalto indetta da Ato Toscana Sud avvenne con metodi fraudolenti. Intanto sul fronte invece del personale c'è stato un recente accordo tra le sigle sindacali e Sei Toscana che prevede l'assunzione di 150 lavoratori dei 250 licenziati dopo il decreto dignità.